hashtag eccezionaloso hashtag eccezionaloso ragazzi per questo video perchè è petaloso più eccezionale da eccezionaloso se non l'ho sapevato ok bello ragazzi io sono Algizios e oggi siamo qui con Loris ciao ragazzi su Clash Royale ok io sto registrando da Bluestack mentre Loris, fortunato lui, sto registrando da telefono perchè io non posso, non posso permettere in questo lusso mi dispiace non è un telefono ma abbiamo un omaggio così a caso per chi non lo sapesse sto registrando con l'applicazione che avevo 3 di 4 mongolfiere una mongolfiere la porta al 3 vai 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 anche un domatore solo te trovi le epiche nei bauli omaggio ma solo mongolfiere vorrei far notare perchè ho solo mongolfiere innanzitutto facciamo vedere il nostro clan gli incredibili apriamo un attimo Loris è il capo solito dopato 2023 coppe ero ero il capo poi c'è stato Albelama che mi ha rotto le balle mi ha detto promuovimi, promuovi, promuovi e allora ha detto ti promuovo ti promuovo ok e quindi il capo è Albelama ma Loris è il vero capo perchè come vedete ha 2028 coppe quindi e sono sempre io che ho speso i mille mille dico mille di oro per aprire il clan eh si ragazzi si io mi ho detto 174 coppe sono ancora in arena 4 cioè ho raggiunto l'arena 5 ma è stato tipo un afferrare il nulla per poco comunque mi è piaciuto tantissimo il video di Vegas e noi abbiamo fatto una miglioria abbiamo preso abbiamo portato due percorsi diversi il mio lo vedete qua dalla webcam come potete vedere ok questo qua è per Loris lui Loris in realtà ne ha preparato uno e né io né lui sappiamo che percorso sia comunque la sfida è raggiungere prima le 11 corone eh abbiamo preparato un percorso con 3 difficoltà un 2 per e tutto il resto è uguale quindi 12 caselle non contando qual è iniziale sono 11 quindi 11 corone ragazzi ok iniziamo una battaglia guarda ci scommetto che abbiamo fatto due percorsi sono uguali eh non penso proprio sicur sicur vediamo vediamo vai 3 2 1 battaglia ah si ok 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 io sono contro dai un livello 7 a mio pari livello dai stamattina ero contro un livello 9 ma io sono livello 7 sono nell'arena dopo quindi bella mamma mia quanto mi inculerà ehi ma vaffanculo questo qua ha già messo giù il di tutto sta registrando tu vero si si grande questo qua non sta piazzando niente mi preoccupa e beh fortunato te a me qua sta non dico che sta mettendo giù il mondo però siamo ancora 0 a 0 per ora palla al centro come una roba incredibile non riesco a fare niente a me mi ha tirato giù no ok mi sto parando il culo abbastanza bene beh basta dai 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 vaffanculo uso con le cazzo di frecce lì che mi stanno sulle balle dai niente non riesco a passare io mi sa in qua faccio 0 a 0 non abbiamo ancora fatto niente no mi ha buttato una corona mi ha buttato giù una corona cioè mi ha fatto mi ha buttato giù una corona cosa ho detto mi ha buttato giù una corona cosa che cosa vuol dire niente niente da fare mi ha buttato giù una torre ha vinto no io invece sono a sudden death sei a sudden death ma mi sa si ma mi sa che meno 30 trofei bene di bene è meglio dai dai che ce la possiamo fare vaffanculo niente mi sa che finisce davvero in pareggio c'è 0 a 0 proprio che cazzo ridi bastardo è una roba che non sopporto giù è finita 0 a 0 vai la gelo vai la gelo vai gelo vai gelo vai gelo perché mi arriva sempre dopo la gelo sempre dopo me la metti giù sempre dai dai ci portiamo in testa così dai 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 però siamo ancora 0 a 0 quindi non sono in testa l'importante è crederci l'importante è crederci tu quante corona hai fatto nella prima 0 0 0 mi ha arato lui mi ha fatto una corona lui e basta che adesso recuperiamo elisir easy proprio easy strega di merda easy sto minchia e vabbè abbiamo un paio di problemi tipo domatore strega e moschettiero tutti insieme ma io sono vivo per miracolo oh dai dai andiamo non sono vivo per niente l'ho messo giù il mago bastardo vai gelo figa il mago mai una volta che la gelo arrivi quando serve mai domatore e furia devo tenerla a mente quanto cazzo è forte lo stregone cioè mi incula qualunque cosa peggio di Sasha vai arrivata giusta la gelo non ci credo eh ma non ce la faranno mai gli sgherri da soli 1.200 840 gli butto giù anche un fulmine sulla fiducia è andata giù è andata giù è andata giù la torre cioè ma giù io non riesco a vincere e neanche io adesso mi incula mi ha inculato 1-2 però ragazzi il modo in cui è arrivata l'ultimo a gelo è stato bellissimo ok sono a una corona Loris puoi mandarmi avanti beh un altro pareggio 0-0 ok tu non ti muovi io mi muovo di 1 segna che mi sono mosso di 1 o qualcosa in particolare che sfiga no ma che sfiga no arriva lui ok quindi possiamo fare battaglia via ecco mi sa che quella partita qua non dico che non la vinco è difficile anche non perderla congela drago congela drago drago striga congelati buono la torre continua a cagare la minchia si porta in vantaggio così 0-0 sempre però io ho portato una torre a 78 ma lui me ne sta per arare una quindi sto bastardo anzi me ne ara due se non sto attento che bastardo dai 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 mago dai dai bravi no si cazzo ok una corona l'abbiamo fatta vabbè ma io non ne faccio mai una e adesso giù vai vai giù di prepotenza 300 tanti di vita non basta col fulmine arriva il colpo di grazia no 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 aveva 94 l'altra torre non ci credo e io ho perso 29 coppe ma vaffanculo ne ho perso 30 io sto continuando a perdere cioè non lo so quando vinco ne vinco 19 quando ne perdo ne perdo una catterba cioè vaffanculo puoi segnare un'altra coppa per me io mi vedo che tu procedi senza prendere ostacoli ma come ne ho fatte due le avrei messi dopo gli ostacoli mi preoccupa tipo le hai messi qua tutti io non posso spoilerarti niente io non voglio che tu mi spoileri niente andando ti metto una tesla qua perché ho visto che hai già iniziato a rompere le palle con le casette sponde cavolo se le odio e non sei non sono l'unico allora lui ha sbagliato tirato la fireball no pecca avevi lì le cose vabbè ti tiro ti tiro la fulmine vai domatore vai 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 no si ho vinto è vinto bella giocata grazie al cazzo bella giocata la violenza più 23 coppie vai andiamo così no no 14 ai 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 capitiamo sul su un imprevisto che cazzo cosa gli facciamo fare a questo imprevisto devi fare una partita normale come stiamo facendo si se non fai almeno due corone stai torni indietro di una what se invece le fai due prosegui tranquillamente ah niente neanche prosegui di due no proseguo tranquillamente eh si prosegui di due si ah va bene va bene iniziamo la battaglia si no frecce 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 ti prego no alberia di goblin non ho fatto manco una guarda torno indietro di uno torni a due oh sto continuando a perdere sai cosa ti dico si che qualcosa qua durerà fino a domani probabile 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 io li ho dei barbari sono in set cioè sono in cinque ma lorda non riesce a stopparli cioè sembra una barzelletta cioè sono in venti gli altri però lorda non ce la fa e lui mi butta la fireball quindi è disperato però io la genoa non la butto così a caso adesso lui butta la tesla ma la torre 204 di vita la torre ha 94 di vita attenzione eh ti incazzo lui o te lui 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 si continua a incazzare e cosa ti incazzi è mica colpa mia ho usato la gelo uso anche io la gelo così devo dire ha sbagliato mira ha sbagliato mira con la fireball buono eh ti incazzi mica mica problema e una torre due torri e una piena vita andiamo bene vai 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 ah no non mi ha buttato neanche giù la torre l'altro tra l'altro qua invece la situazione è molto più disperata dai che facciamo tre stelle dai che facciamo tre stelle dai che puntiamo le tre tre stelle tre stelle quindi da due vai a uno due a cinque bravo Gisi ha beccato qualcosa meno trentuno per dire intanto ah io quanto l'ho guadagnato non l'ho visto ventinove ma ne ho perse trenta vorrei far notare che ne ho perse trenta trenta ah si mi ha fatto a cosa senza sempre perdere di più di quelle che guadagni trenta ero a mille e trecento quaranta settanta quando ho visto questo episodio sono a mille e duecento e cinquanta che guadagni è Grazie a tutti.